Signori miei benvenuti e bentornati benvenido se bentornati su una volta scassare un gioco che volevo iniziare a tanto tempo che appunto è marvel avengers io sono un grande appassionato per chi è interessato scrivere la storia senza queste difficoltà con la difesa e vincitore, gli attacchi di me ci possono essere contro per chi cerco le spese di combattimento bilanciate e commettere la prova delle sue abilità io farei lui sapete una roba normale questo è un test, spero che l'audio sia giusto, era tanto tanto tempo che volevo provare questo gioco finalmente ci sono riuscito brava non so esattamente che tipo di storia avrà questo tipo di gioco, non so se riguarderà il classico filone degli avengers o o non saprei sono curioso di scoprirlo ho messo un timer graficamente ragazzi non vi sto neanche a dire che è una bomba atomica non ci sono gli attori come personaggi bomba atomica ragazzi so che sarà una serie poco seguita sul mio canale ma voglio portarla per forza per avere appunto per avere anche lui sul mio canale come collezionista tante serie ancora da da fare insieme a voi serve a renderci più forti per avere molta varietà sul canale cosa che voglio portare no ce la fai zia quando sei nata saranno puntate comunque abbastanza lunghine mezz'oretta circa ascoltiamo se i miei occhi fossero la cosa più bella del mondo siamo tutti unici Kamala e tu devi esserne orgogliosa braaaavo io più di te e sono sicuro che tu possa vincere viglio te lo farai troppo lungo il titolo questo è lo spirito ma che tu vinca o tu perda starò comunque bene abu oh beta il bene non è parte di te era diverso sotto l'idolo però esattamente a sinistra il quartier generale avengers della west coast presto a tirare inizio la chimera oh la madonna oh la matta presto abu andiamo d'accordo d'accordo cerca di stare calma non ho intuito l'età di questa ragazzina ragazza è incredibile oh siamo la bambina che è questo lag gesù non mi interessa Hulk Iron Man uno dei miei personaggi preferiti oh eh sì mi registra la reception se mi fai registrare mi fai registrare guarda guardali Thor sono obbligato a vederli tutti Hulk è veramente grosso eh adesso adesso me lo fai fare eh ciao no i can provate la nostra caccia al fumetto se li recuperate tutti e cinque potrete accedere alla balconata VIP quando li avrete tutti passate il vostro telefono davanti all'ascensore e potrete salire divertitevi non hai già però se ne è un posto VIP è l'evento principale ma la balconata VIP devo farlo oddio spero di vederli anche dal vivo eh per attivare l'intelligenza tattica visualizzare l'indicatore d'obiettivo vi auguro una magnifica giornata uno è qua qua Gesù ah è tutto orelone quante devo fare qua dai mostro è questa bambina cioè mostro perché sono io il mostro e abbiamo vinto anche il fumetto penso che il primo prima puntata sia un tutorialone enorme grazie la b eh arcade ok andiamo un po' eh abbiamo vinto già abbiamo vinto già oh bene questo è stato facile e anche molto rapido comola graficamente mi piace da pazzi eh no il C è di qua eh che è ti devi spostare ok ok questo è quello di Iron Man no no questo è vuoto ma quelli sono oh cavoli quanti repulsori oddio è davvero bellissimo torre ma che atrocità è mai questa ma che atrocità è mai questa come ti chiami come ti chiami Kamala Khan e cos'è quella geggio che tieni lì un raggio umone ad alta densità il guanto repulsore della Mark 3 il primo amore di Tony Stark scaccino 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 per la barba di Odino fa paura quasi quanto il suo proprietario oh sei simpatico si lo so come non se la tira neanche non se la tira una vera arma che non necessita di migliorie chi impugnerà questo martello se sarà degno degna possiederà il potere di Thor esatto la differenza tra i giocattoli di Stark e la potenza di un dio si può darsi ma un eroe dovrà pur iniziare no? giusto? oh si si certo sei davvero molto saggia per essere così giovane ma cosa stai dicendo? grazie anche tu ah 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 ma mi ricorderò il tuo nome mazza che grosso che è non posso credere di aver incontrato il dio del tuono Il dio dei cani Non si dice Non si dice Arriva Mi piace che devi provare a tirare sull'altro Non ce l'ha fatta ed era due metri Sì vabbè Sì vabbè Però io la C Devo prendermela la C Che succede? Attenzione Attenzione Un complottone Voglio vedere se è un tripla A questo gioco qua Per ora mi piace molto Io voglio vedere il Il sistema di combattimento eccetera Non ho seguito né visto neanche un video Quando è uscito giuro Ho visto solo il trailer Vulca Vulca E' lui? Rilevazioni Rilevazioni Dall'arriatore George Era giusto Forse è troppo Troppo presto per annunciarlo in pubblico Credi che potremmo controllare un'altra volta I calcoli? Sì 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 Certo Grazie Scusami tanto Quello è Raul che Cioè quello è lui che diventa Bruce Bruce Banner Mi manca solo la E Che è quello di Captain America Non me ne frega Non me ne frega una sega Vuoto pure lui E come lo troviamo? Lo scuto di Cap della seconda guerra mondiale Con cui ha colpito Hitler È fantastico Magico broda Scusatemi Il concorso è solo per veri fan Ehi Perché pensi che non sia una vera fan? Brava Perché io ho il diritto di stare qui? Credi che gli Avengers abbiano letto la tua storiella? Ma chi è questo qua? Non sparisci Attenzione Quando la folla E la stampa E il mondo Ti dicono di spostarti Tu piantati come un albero Accanto al fiume della verità E di a tutti no No Spostatevi voi Cosa? Cosa? Non sai chi è? Un vero fan sì Ha Sì Come ti pare Andiamo via Madonna Guardala lì Gli ha fatto il mazzo eh Black man qua Vai brother Su Però Rimane sempre il fatto che siamo senza Siamo senza fumetti Sei Sei Per quel che vale Sei stata molto coraggiosa E lui Sei una fan di Captain Marvel Non è qui ma le saresti piaciuta Scusa ma tu sei Captain America Io Io Sono Kamala Kamala Khan Khan La tua storia Le malvagie L'hanno letta Certo le delle fogne Sì Sì A Thor è piaciuta molto Ha detto che hanno avuto un problema simile ad Asgard Hai Hai letto la mia storia Tutte quante Ah donne È incredibile Ehi Cap Dobbiamo andare sul pago Guarda chi è Hai visto Thor Dovrebbe essere arrivato Io sì Sì Pochi minuti fa Era allo stand di Stark Però Probabilmente non è più lì Perché si è allontanato Lei chi è? Nat Permettimi di presentare Attenzione Sono mezzi raccomandati Ciao ciao Non sono Pensate che io l'ho sempre chiamata Black Window Aspetta Se posso scambiare questo numero con quel bambino Bambino Avrà avuto 42 anni Sì ci sarebbe da guardare tutto ma Siamo qua per altri motivi Zio Ehi ho il numero che volevi Fantastico Facciamo cambio Quanto è il ritardo? Beh alcune cose non sono fatte da Dio eh Devo dire Ora che li ho tutti Potrò accedere alla balconata VIP Alcune cose non sono proprio fatte da Dio eh Dal mio punto di vista Non è esattamente quello che volevo fare Corri scappa due frame al secondo Balconata VIP Sei tu la mia balconata VIP? No non sei tu la mia balconata VIP Fa il codex Direttore Fiori Ah dove si Direttore ha considerato che il reattore delle livellivolo potrebbe non riuscire a contenere questo Terdigen Non conosciamo ancora Ti fermo subito Non saremmo andati avanti se il progetto non fosse sicuro Bravo Che offrirà sicurezza protezione degli Avengers Nick Fury che lo fa Samuel L. Jackson Grazie Bruno non riuscirà a cridere nei suoi occhi Ehi ehi ragazzina sta attenta Oh Che è? Ok Eh voglio la mia balconata VIP Tengo premuto Apriti sesamo signori supremi dei fumetti Sì vabbè Ciao è America Il papà era già qua Il papà era già con lui Lui già sapeva tutto Mi viene già da ridere Attenzione Grazie Grazie a tutti Sta bene Orca troia Era qua Goditi l'evento principale Va bene Credo che stia parlando Voce Credo che stia parlando Ma noi Non è vero Non sento le voci Credo che stia parlando Ma Ci devono essere dei problemi Con l'audio Penso Mi piace vedere che la gente esulta Senza Cosa ho visto Che cosa ho visto Che cosa ho visto ragazzi Avete visto anche voi il teletrasporto No voce Straordinario Bravo Capitan Tuo Sì È di poche parole Oggi Però Mi piace che i gestic Si vedano nel televisore Non li fa Nel Lì Adesso ho fatto tipo Mewsuki Una roba del genere Di nuovo Scusa Ma non c'è lì Ma non c'è lì C'è il Capitan America Scusami Dottore Avvocato Signorina Signorina Dottore Sta facendo un gesto molto strano Fatemi Torno al menu principale Riprovo a ricaricarlo Solo per vedere Allora Che mani grandi che ha Signorina Che mani grandi Signorina Campagna Voglio solo Ricaricare Per vedere Se magari è solo un piccolo bug temporaneo O se magari no Io spero di sì Perché è un gioco Che mi interessa molto Non vorrei buttare così Per un baghetto Di questo tipo Tutto quanto Ha capito Uh Una risorsa rara Necessaria Oh Eccolo Era un baghetto temporaneo Come play Qualcosa non va Andiamo via da qui Vieni Ai ya Sembra grosso per essere un incidente Non esistono incidenti Tor Tony controlla Vado subito Stammi dietro Tenta è un gioco Non si sa mai Ok Forse fra poco Scopriremo Come è il sistema di combattimento Stavi aspettando? Ah Sì Ovviamente Volevo recuperarsi Wow Per sì che si fa Molto più interessante Dobbiamo darci una mossa Io sono già lì Tor Prova ad aprire una strada Tor Tor Non mi sembra volasse così Cioè che fluttuare Stai Via 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 Ci sono Di notte Rattini di uomini armati qui Ci servono Rattini di uomini armati qui Oh madonna Oh madonna Uuuuuh Non so cosa sia successo E' il E' il Tor Interessante Tor Grazie per l'aiuto Tor Con chi abbiamo a che fare E' figo eh Aspetta Quelle armi appartengono allo shield Provo a contattare il comandante Il K Hanno scelto proprio oggi A pugni eh Ma che figata Ma che figata Per ora è una figata Dai Solo perchè la novità Che è? Ma quali rinforzi? Cosa vuol dire Uccidete il dio? To 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 Come puoi dire Uccidete il dio? Attenzione Uh adesso arriva Tony Tony forse è il più forte Premi alle vibro Usa una mossa eroica Donna Donna Quello è stato notevole Preso Uh Spavolto Mi piace Arrivano Ohia Arriva qualcuno di grosso adesso vero? No Belli scudi Degli scudi Pizzarro Ah Via 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 Mossa eroica Questi qua volano Va bene Finita Start Ehi Tornate indietro Dai fammi usare Tony Ho appena ricevuto conferma Stamattina hanno rubato un convoglio shield Dai figo eh Dai figo eh Ok vai vai Ok vai vai Ok vai vai Arca 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 Vai 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 Ma che bomba Porca di una porca Grazie Pursa Piatto che Fury abbia tenuto la mia tecnologia migliore tutta insieme Quei ratti finiranno per destabilizzare il porto Dai dai Eh lo so Gli ho costruiti io Stiamo andando a cannone eh ragazzi Sì Stati al riparo Ok Chi di voi comparse da film di serie B mi ha sparato Chi è? Avengers Il convoglio trasporta prototipi shield e segreti Fury sta cercando l'elenco di carico completo Porca No no Eh Allora di pugni non è un granché eh Toh 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 Vai così Vai così Vai così L'ho capito bene L'ho capito bene No Eeeeeee Toh 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 Non lo sapevo che stessi ancora ascoltando Che succede la giugna Che succede la giugna? Mi aspettavo che niente È tutto per te Alla fuga ormai Però solo che non abbiano L'impressione che non abbiamo ancora visto Orca Orca Cos'è tutta questa roba che si sovrappone? Scusate Ah giusto Eh Cap la nave non è pronta per volare Perché si muove? Qualcuno ha avviato i protocolli di sicurezza C'è una nave che vola Una nave che vola Una nave che vola Rientriamo Negativo Proteggete il ponte Quelle armi non devono entrare in città Ricevuto Tocca a te Bruce Va bene Si Poveraccio Eccolo Io qua volevo arrivare Usa le persone Io credo che un pugno di Hulk Uccita chiunque Subito Altro Altro Uh Un carro armato Magnifico Vabbè La madonna Nessuno di voi ha notato che Vabbè Neffiù Così Mi sembra un po' esagerato Eh Hulk Andata Andata Beh La tonna La tonna Quanto è cattivo Hulk Guarda Tony Ho addosso alcuni nemici volanti Sono proprio fastidiosi eh Guarda che lavoro Pensa a te Chi è? Ok il ponte va giù Hulk Che dici? Avengers Come sta andando? Bene 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 Finora meglio di quanto mi aspettassi eh Quei carri stanno distruggendo il ponte Se non li fermiamo potrebbe crollare Puff Porca di una porca porca Ueeeeee Vabbè dai Cosa ho visto signori Ha qualche bug eh direi Le tue invenzioni sono pericolose Stark Ehi, quelle arvi erano per i buoni! Pensi che si tratti di un gioco? Non è il momento! Concentratevi, ok? Cosa sta succedendo? Non lo so, Nat. Un malfunzionamento del reatore. Le rilevazioni sui monitor sono strane. Pare che una fonte di calore ci attiri. Scusami. Nat distruggerà la città. Ripeti Cap, non riesco a sentire. Nat, mi ricevi! Attenzione! Usiamo Cap? X più B. Devastante. Fumogeni. Attenzione! La chimera è sotto attacco! Evacuati civili! Ok, ok. Dai, dai. Oh, la madonna! Totto! Non so chi ha preso. Che cos'è? Oh... Frate... Tekken! Tarton! Tarton! Aggiornami! Che succede? Quel reattore non si stabilizzerà! Quel reattore non si stabilizzerà! Si sta scomponendo in un gas! Quindi? Qualche cosa là sotto sta inviando energia al reattore! Ed è straordinario! Non è il momento di fare dell'Accademia Bomber! Uh, adesso ridiamo eh! Adesso fa il bravo! Si! Esatto! Eh, va bene! Bastante! Dammi uno grosso! Eeeh, vabbè! Se mi sentite il convoglio trasporta una bomba a distruzione sonica altamente letale! Bene! Il piano dei nemici è di farla esplodere in città! Precipitiamo! Ve lo ripeto! Abbiamo una bomba sonica! Andate a recuperarla subito! Certo! Perché no? Amo! Amo! Amo dove sei finito? Ah, già la ragazza! Bomba sonica! Mi prendi in giro? Pensavo che le avessero vietate! Diamo un'occhiata, va bene? Il martello... Si, vabbè che camion è? Si chiama entrata! Aspettare l'estatrice da è una fine del ruttore. O, è un'area del ruttore che faccia la sfoglera. Tuttare la sfoglera. L'area del ruttore delle scoplie. L'area del ruttore è una grande della scoplie. E' una grande dioranga. volano tutti mi piace che Ulca Manu tiene un ponte perca vai madonna com'è scattante lei lo prendo lo prendo dai Y grande dai dai vabbè legno dappertutto guarda che roba sta succedendo ma quante cose a schermo stanno succedendo bello eh peccato per i piccoli bug che vedete a volte maschera devastante anche lui attenzione sai speravo di approcciarti io invece non ho mai ripensato a te batti sotto per me le attive eeeh eeeh no oh ai eeeh di nuovo giù toh ah adesso non voli eh ah non voli più la spada toh toh infame porca stai prendendo i soliti appunti no oh so via più son basto più apprendi giusto si chiama zero originalità toh toh madonna che combo gli faccio fare eeeh però mi da mi legna eh lui ah non ha eh l'ho schivata però non me l'ha presa aia il tuo balletto finisce qui premi rt per contraattaccare gli attacchi con indicatore blu e giallo rt rt è questo ah ma allora ci sente toh 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 eh non è facile eh ragazzi aia col blu voilà sciolto signori stai ancora provando a mettere insieme i pezzi ti arrendi? non se ne parla allora a cosa hanno portato le tue indagini? so che non sei il cervello dietro l'attacco è veloce eh diversivo basta parlare cotarda che c'è? non ti piacciono le sorprese? il sebi il sebi bam bam madonna che legna prendi appunti meglio ride ha 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 detto una torre al cacchio eh avevi previsto anche questo eh? pensavi di aver vinto ma di che diavolo stai parlando? guardati attorno Romanov il mondo si ricorderà di questo giorno bella la maschera eh il giorno in cui i loro eroi fallirono perché c'è la nave che sta succedendo qui? non ce l'hanno fatta la città collassa maledizione è una trappola steve puoi sentirmi? vattene subito beta al diavolo aia loro sono sopravvissuti però non so Captain America meno male che lei ce l'ha fatta va 5 anni fa gli Avengers presentarono una tecnologia pericolosa e non testata causando una quantità di danni mai visti prima il nostro amato Captain America è stato ucciso durante il tentato furto di questa tecnologia migliaia di persone innocenti sono morte e molte è morto Captain America le cicatrici di quello che oggi conosciamo come A-Day centinaia di malati sono rimasti bloccati in strani bozzoli per poi emergerne con pericolosi poteri sovrannaturali senza la cura la malattia si è diffusa in tutto il paese e mentre sia lo shield che gli Avengers promettevano di sistemare la situazione la testimonianza del dottor Banner ha messo la parola fine a un'era voi cosiddetti eroi avete trasformato San Francisco in una zona di quarantena piena di gas infetto avete creato esseri malati e potenti che seminano il caos molti dormienti e non identificati quindi le ripeto la domanda dottor Banner ma è successo casino pericolo per la società sì dopo essere stati dichiarati fuori legge il gruppo di eroi si sciolse in verità molti di loro se ne erano già andati ok con la liquidazione della Stark Industries il dottor George Tarleton una vittima degli avvenimenti delle idee e fondatore delle avanzate idee meccaniche pensa che la scienza sia la soluzione ai problemi del paese vorrei sapere cosa è successo al capitano Rogers ma non ero vicino alla stanza del reattore non ho risposte quindi ma posso promettervi questo io userò questa mia seconda occasione per rendervi però c'è sempre un'altra cosa qua sotto davvero interessante però ci vediamo al prossimo video ci cacciamo ci cacciamo ci cacciamo ci cacciamo